Per noi quella dell'11 febbraio significa una ripartenza e riappropriarci del nostro diritto al lavoro. Certamente non c'è stato di entusiasmo perché le norme emanate per la riapertura sono molto restrittive. Mediwick.com, siamo qui con Maurizio Pasca, presidente di Silvafipe, l'associazione italiana delle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. L'11 febbraio scorso, presidente, si sono riaperte le discoteche di locali di intrattenimento. Ci sono delle regole precise da rispettare sulla capienza, le mascherine, ovviamente le distanze. In generale siete soddisfatti o ci sono ancora delle richieste da avanzare alle istituzioni o che magari non sono state accolte? Guardi, l'11 febbraio ultimo scorso per noi è stata una giornata significativa perché è una ripartenza del settore. Dopo due anni che siamo stati chiusi ininterrottamente, e questo bisogna ricordarlo, esattamente dal 23 febbraio del 2020, quando con decreto da parte del presidente del Consiglio siamo stati chiusi, e tranne delle piccole parentesi, quella estiva del 2020, la fine di giugno fino al 17 di agosto, quando poi con ordinanza da parte del ministro della Salute e Speranza siamo stati chiusi nuovamente, e quella del 2021 dall'11 di ottobre fino al 23 di dicembre, quando poi dall'oggi al domani siamo stati chiusi nuovamente, quando ci eravamo preparati per svolgere le festività natalizie, il settore è stato chiuso ininterrottamente quindi da due anni. Per noi quella dell'11 febbraio significa una ripartenza e riappropriarci del nostro diritto al lavoro. Certamente non c'è stato entusiasmo perché le norme emanate per la riapertura sono molto restrittive e quindi non ci permettono di esplettare al 100% il nostro lavoro, voglio ricordarle. L'ingresso in discoteca solo ed esclusivamente col Green Pass rafforzato, la riduzione della capienza al 50%, il tracciamento delle persone che prendono parte, appunto che accedono in discoteca, il distanziamento dei due metri in pista e il divieto di somministrazione di bevande al banco. Quindi come si può notare sono delle norme molto restrittive che certamente non ci fanno svolgere il nostro lavoro al 100%. Presidente Pasca, in questi ultimi due anni lei e i suoi colleghi avete spesso lamentato sia per quanto riguarda le restrizioni che vi hanno colpito, che mentre i locali ufficiali rimanevano chiusi, spesso e volentieri c'erano delle feste che si svolgevano comunque senza controlli. In generale, facendo un po' un veloce riassunto, come sono stati questi due anni di pandemia sul settore, che conseguenze hanno avuto su economia ed occupazione? Diciamo che sono stati due anni tragici, perché poi assistere anche con le discoteche chiuse si è ballato ugualmente dappertutto, basta vedere dei filmati di luoghi improvvisati, ma non soltanto improvvisati, tipo il bar, il ristorante, lo stabilimento barneare che facevano ballare con le discoteche chiuse, certamente qualche problema è stato regato al settore, un settore che ha un valore economico di circa 2 miliardi di euro all'anno, con un centito fiscale di circa di 800 milioni di euro, e in due anni noi abbiamo perso 4 miliardi di euro. I ristori che sono stati riconosciuti al settore sono ben poca cosa rispetto alle perdite che il settore ha subito. In due anni il governo ha riconosciuto 70-80 milioni di ristori a fondo perduto rispetto appunto ai 4 miliardi di euro che sono stati persi. Se poi andiamo a suddividere i 70-80 milioni di euro alle 3 mila e 3 mila e 300 aziende che sono sul territorio è aspettato circa 20 mila euro per due anni di chiusura. Voglio ricordare che un'azienda, quale la discoteca, anche chiusa, sopporta dei costi di circa 15-20 mila euro all'anno. Se noi andiamo a suddividere 20 mila euro avuti di ristori a fondo perduto in due anni sono toccati circa 800 euro al mese. meno di quanto prende uno con reddito di cittadinanza. E questo lo troviamo davvero assurdo. Presidente Pasca, lei recentemente, insomma, in alcune sue dichiarazioni ha parlato di pregiudizio ideologico sui locali da ballo, cito testualmente, che avrebbe, questo pregiudizio, condizionato le riaperture durante questi ultimi due anni. Ma nello specifico, che cosa intende quando appunto usa questa espressione, pregiudizio ideologico? Il pregiudizio ideologico parte da molto lontano, dalle famose stragi del sabato sera con Mamma Belli anni 80-90, quando la discoteca è stata additata come problema per le stragi del sabato sera, quando sappiamo perfettamente che non era così, perché mancavano i controlli sulle strade, le strade erano quelle che erano, poi una volta che ci sono stati più controlli e ci sono stati provvedimenti restrittivi perché veniva trovato alla guida in stato di alterazione fisiofisica, gli incidenti stradali sono diminuiti notevolmente, e quindi non erano additabili alla discoteca. Ma come è successo ad agosto del 2020, quando ci hanno chiusi il 17 di agosto con provvedimento da parte del Ministro della Salute e Speranza, addirittura siamo stati additati come se fossimo noi gli untori della pandemia. sappiamo perfettamente che non è così, perché la curva dell'innalzamento dei contagi c'è stata verso la fine di settembre e inizi di ottobre, le discoteche erano state chiuse il 17 di agosto, e allora perché additare noi come responsabili untori della pandemia? Ecco, da qui parte il fatto che c'è quel pregiudizio ideologico che c'è nei confronti del nostro settore, come se fossimo noi i problemi del disagio sociale dei giovani che si sta vivendo. Abbiamo visto che con le discoteche chiuse le risse si sono aumentate nelle vie e nelle piazze della città, perché è stato tolto ai giovani il luogo della socialità, e allora perché additare sempre le discoteche come se fossimo noi i problemi dei giovani? Ma non è assolutamente vero quello di noi. Io c'è quello che voglio dire, che il nostro settore è fatto da imprenditori seri e preparati, e che i nostri locali sono luoghi sicuri e in grado di gestire il divertimento e sicurezza. Ecco, questo è la discoteca. Ecco, grazie. Grazie. Grazie.